che ci fa un abito da sposa abbandonato sul Vesuvio da mesi. A metterlo sulla stampella è stato un ciclista Massimo Ginelli, presidente di MTB Vesuvio, che durante una passeggiata lo ha visto a terra e lo ha sistemato sull'albero. Mi sembrava un prodigio, si legge sul mattino, così ho voluto raccoglierlo e sistemarlo. Si legge sul mattino. Indagando un po' esce fuori che il vestito da sposa è talì da fine agosto, proprio dopo l'emergenza Roghi. L'aveva già visto un altro ciclista, Nicola Liguoro, ma non aveva detto nulla a nessuno perché la scena era inquietante e dolorosa. Era fine agosto e dopo un giro domenicale, in discesa, ha raccontato scorto questo abito sporco di cenere in uno scenario lunare, appeso ad un ramo e agitato dal vento nel grigiore assoluto. Nel vedere questo velo bianco svolazzante mi sono avvicinato, continua, ho appoggiato la bici a terra e sono stato ad osservarlo in credolo per diversi minuti. Già avevo il morale a terra nel vedere i miei amati luoghi distrutti, poi quella scena inquietante mi ha ulteriormente turbato. Così sono risalito in bici e sono andato via. Intanto i ciclisti di Vesuvio Mountain Bike Race hanno battezzato la salita della sposa il sentiero che porta all'inquietante scoperta.